Ragazzi e ragazze vi do il benvenuto su Casio Drums Oggi nuova reaction Tanti di voi probabilmente avranno già visto video di questo format In cui mostro i vostri studi Anzi siete voi a mostrarmi i vostri studi, le vostre batterie Tutti i vostri bunker e tutto quello che avete per studiare, per suonare eccetera 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 Quindi oggi 3 iscritti mi faranno vedere le loro batterie Tutte le loro chincaglierie varie eccetera Ovviamente vi ricordo che chiunque mi può mandare i video Bastano sia, basta sia, no Ha una qualità abbastanza buona Diciamo dei video da cellulare vanno benissimo Formato orizzontale mi raccomando Formato orizzontale e con un po' di piglio Mentre si parla così da non sedere il video Oltre questo due cose Iscrivetevi al canale mi raccomando Commentate qui sotto Questa fa sempre parte della prima cosa Iscrivetevi al canale Commentate qui sotto se ancora non avete commentato Se ancora non siete iscritti eccetera eccetera Seconda cosa sul mio sito Gastiudrums.it Avete tutti i miei corsi se vi piace il mio modo di spiegare Eccetera eccetera Quindi Mando la sigla e partiamo subito Con Ed entriamo subito Nel primo studio Di un iscritto Quindi come al solito mi metto le cuffiotte per ascoltarvi mentre parlate Voglio partire subito da Simone Pezzi Che ha una batteria rossa Una batteria grigia come possiamo vedere Ma bando alle ciance Partiamo subito Vai Simone Buongiorno amici del Gastiudrums Ciao Mi chiamo Simone E questo è il mio studio Sono da quando avevo circa 11 anni Quindi più di 20 anni Non sono un professionista Ma mi diletto a suonare sia in casa Sia con una band tributo a Equalplay Studio carino eh Anche queste sono le mie batterie Vai Ho una stage custom appena comprata Molto bella Yamaha quindi Sette pezzi Quindi con Tre tom Due timpani Casa 22x17 Che amo Con un rullante Black Magic Della Ludwig Bellissimo E questo invece è il matching snare Quindi il rullante Sempre stage custom 14x5 E mezzo O 5 Molto bello E i rullanti Yamaha Sono sempre belli C'ho tanti Zultan Serie Caz Che non è un insulto Ma vuol dire jazz In turco Con Ok eccolo lì Il Zultan non l'ho mai trovato Mentre questo è il mio fido HHX Power Crash Da 18 Da Sabian Ok E un Bosphorus Da 18 China Beh ce ne sono un bel po' di piatti Devo dire molto carini Diciamo un po' la parte elettronica Che vedete Sullo fondo E mi fa anche d'ascolto Quindi ho linea Riesco a passare da tutte e due Le batterie Senza spostare Che bello Tutto cablato bene Il mio fido ventilatore Che mi aiuta L'estate E la fida stufetta Per l'inverno Qua c'è un po' di casino E se l'altro Allora È impilata Lì invece c'è la mia Drum Sound Evolution Del 2009 Fatta Per un tour di Mango Quindi è una batteria Che adesso io ho riverniciato Di questo colore Era dorata E Però è andata in tour Con Mango Quindi è una batteria 20 10 12 14 16 Con una botta Pazzesca Quindi è la parte elettronica Quella che uso suonare di notte Oppure nei locali piccoli Adesso ho un timpano aggiuntivo Normalmente sono con solo un timpano Per il tributo ai Coldplay Ok Dove ho un multipad Alesic Strike Bellissimo Che comanda Bellissimo Che comanda 4 pad aggiuntivi Già provato E questo lo utilizzo sia con la batteria elettronica Sia con la batteria acustica Ok E dopodiché Ho tutta invece la parte elettronica triggerata Un rullante a TV Artist Con un trigger aggiuntivo Per simulare appunto il rullante reale Piatti sono della Zeitgast Della Drumtech Ok Mentre lì ho un RAIDA 20 Della F-NOT Che è incredibile Qua ho uno dei rai di elettronici Più belli di tutti È il 14 Roland Digitale Con la TD27 Che mi aiuta In quanto riesco anche a riprodurre Tramite bluetooth Diciamo la musica E mandarla direttamente Di Near Mamma mia Mamma mia Bellissimo Grazie a tutti E buon proseguito No Grazie a te Grazie a te Simone Veramente molto bello Allora Lo studio devo dire carino Comunque molto funzionale Non è enorme Però comunque ci stanno Due batterie montate tranquillamente Una batteria impilata Quindi anche un po' di magazzino Tra virgolette E Allora La Stage Custom Sicuramente molto bella Quella è una batteria Che porterò a breve Dovrei riuscire a portarla sul canale E Quella che in realtà Mi ha Scioccato È La La batteria Diciamo elettronica Tra virgolette Non ho capito Forse l'ha detto Ma me lo sono perso Che batteria è questa qua Che fusti di batteria sono Però se l'è completamente Modificata E devo dire Ha fatto una batteria bellissima La Lazy Strike Pro Il Multi Pad È una bomba L'ho già provato Magari vi lascio il video qui sotto Così se vi interessa Potete andarlo a vedere Il ride dell'Effnot È Come dicevo prima Il ride secondo me Più bello Che ci sia Per quanto riguarda Le batterie Elettroniche E poi Di base comunque Ha tutto triggerato Tutto fatto bene Sarei molto curioso Di sentirla Quella batteria Quindi Simone Se ti va Facci un video In cui ci fai sentire Questa batteria Elettronica Perché veramente Sono molto molto curioso Complimenti per il lavoro Perché hai fatto un ottimo lavoro Sicuramente suonera bene Sono veramente molto curioso La sentirei volentieri Speriamo di poterla sentire In un altro video In futuro Adesso Andiamo avanti Allora Dopo Simone Tocca a Ho sbagliato ad aprire Eccolo qua Helio Pelix Video lunghetto Devo dire Perché dura Una dozzina di minuti Ma Video sicuramente Molto Come si dice Molto Chiaro E Minuzioso Almeno Spero Perché data la lunghezza Secondo me ci spiegherà Proprio tutto bene Tutto bene Quindi Sono super curioso Partiamo Subito Vai pure Ezio Ecco qui che entra Del Amici del canale Io sono Ezio Ho visto la tua rubrica L'ho trovata molto interessante Grazie mille Sfruttando Il fatto Di aver fatto Manutenzione A N-SET Ho pensato di mandarti Questo video Perfetto L'unica occasione All'anno In cui li ho tutti montati Poi Ok Ottimo Ognuno Nelle proprie custodie È in rimessa Quindi ne ha un po' Di batterie Direi Allora Ti 5 direi Questo primo set Che è una Tamburo XD Ah XD È una Ah non c'è scritto T5 Che mi ha regalato Un mio amico Che l'ha dismessa Da un locale Che ha chiuso Da poco Nelle langhe Ok Io gliela terrò Gelosamente Da conto Vedremo che magari Anche qualche volta Potrebbe essere utile È un mini set 16 10 13 E 13 13 13 E un lante Ok Una Economica Diciamo Però Legsdick Suona bene Uno ride crash Da 18 E l'altro ride Da 20 Della Tosco Che è una Vecchia fabbrica Presumo È una fabbrica emiliana Che si è fusa Con la Ufip Nel passato Ah ok Quindi Italiana Figo Un po' più piccolino Fanno il loro Suonano discretamente bene Jazz oriented Quindi comunque Con due ride In questo locale Ho partecipato a molti concerti Ho suonato con persone incredibili Molto al di fuori della mia portata Visto che io non sono professionista Però mi sono divertito molto Fa sempre bene Quello suonare con gente così Diciamo così Un pensionamento affettivo Certo Immagino Questa invece è la Sonor Player Una batteria Che suona molto bene Molto sottovalutata Secondo me Infatti se ne trovano pochissime usate Mai provata Ha una cassa 20x12 Quindi Io adoro le casse corte Anch'io Ha un suono veramente molto bello Specialmente quando è amplificata Ha 10 13 E 14 Il Il tom Scusami Il rullante Ok È una batteria che io porto in giro 10 13 14 Un po' di tempo nei concerti Perché Ci puoi fare veramente Tutto Non è di metal Chiaramente Però insomma Va bene Ti generi Dal pop al rock Al folk Li vedo Li vedo un Costantinopole Vedo un Costantinopole Io lo dico Quelli che sono Adesso io li ho montati così Ma sono chiaramente intercambiabili Certo Diciamo che Punto di vista C'è stato un taglio Della qualità Questi secondo me Sono Paragonabili chiaramente A Costantinopole Sono la serie Bosphorus Hammer Molto belli quei piatti È la serie Non so se la fanno più Ma è La serie Diciamo così Più importante Della Bosphorus O tra le più importanti È quella Che usa Jeff Hamilton Che è il batterista Di Diana Kroll Certo Spazialista pazzesco Tra l'altro C'è anche la La sua firma Firma Del batterista americano Che io considero Per il suo genere Uno dei Foltissimo Jeff Hamilton Pazzesco Appunto con le spazzole Ciao a tutti È un 20 Queste qua sono Misure 22 Ok Un 20 E Il Charleston Da 14 Ok Di là C'è il Costantinopole Viati incredibili Per il jazz Soprattutto Per Insomma La borsa Questi generi Abbastanza delicati Sì poi di solito Sono belli scudetti I crash Li ho comprati con Fatica Capisco Uno alla volta In tutti questi anni Però ho preso questi I crash Da Costantinopole Perché secondo me La Zillian Costantinopole È la È la serie Che fa Per il Come vedo io il suono Il I migliori crash Sono bellissimi In circolazione Io ho un ride Ho comprato Due 16 E devo dire che Che Suonano Ah ok Incredibilmente Diversi Cioè Sono delle stesse dimensioni E il peso Come infatti Artigianali Ha questa caratteristica Esatto Io la trovo Incredibile Suonano tutte e due Benissimo Con due suoni diversi Poi ho un 18 Ok Anche questo Suona benissimo Ci crediamo La batteria sotto Che è una Quella è la Famigerata Ludwig Questlove Questlove Mini set Anche questo Da 16 10 12 13 14 Quella L'ho provata Suona bene Anche questa Suona Incredibilmente Bene Chiaramente Sono tutte Ripellate Anche con Insomma Pegli Di rilievo E Chiaramente Il costo Di un Di un Rimpellaggio In rapporto Al valore Della batteria È già Molto importante Insomma Se ne Ripella una All'anno Non di più No no Chiaro Le casse Si esauriscono Quelle Le casse Costano Di brutto Ottenuto Tutti i rullanti Originali Anche se Suonano Chiaramente Hanno dei limiti Suonano bene Nelle medie Alte Accordature Hanno un suono Diciamo così Difendibile Sulle basse Accordature Fanno fatica Normali I limiti Normali Cosa che invece Non succede Con questi Tre rullanti Che sono i miei rullanti Preferiti Ok Cosa sono Grets Acquisiti Provati Venduti Tanti Nella mia vita E Ho deciso Di tenere questi Che sono Un Gretsch Custom In acero Sono meraviglioso Sì sì Un altro Un altro Livello 5 e mezzo Il suprafone Che ho famigerato 13 per 5 e mezzo Io sarò anche banale Ma è il mio Rullante In assoluto preferito E vabbè Air ride Dei rullanti Da sempre Questo vibe Che è che non conosco Meraviglioso Questo me l'ha venduto Un amico Professionista di Torino Ok Un pezzo unico Suono funky Incredibile Sì è piccolino Ha molta brillantezza Ed è un rullante Veramente Tipo 14 per 4 e mezzo O per 5 Difficilmente si riscontra In altri rullanti Un suono del genere Poi questa Ultima batteria Direi La vediamo da dietro Poi la vediamo Anche da davanti E la mia batteria principale Quella che ho tenuto in studio Per un sacco di anni È una custom shop Della Grecia Tutti in acero Ha gli altri legni Chiaramente Quello della Penso siano pioppo Quello della Breakbeat Pioppo e Mogano Questo qua Della Sonor Ok Questo qua Ah no Quello della Tamburo È curioso Perché È una Probabilmente Tra le Le idee Illuminate Di Granatiello Ok Aveva fatto Queste XD Con Della Betulla Finlandese E del Mersawa Viennamita Non sapevo assolutamente Diciamo che Non sapevo assolutamente Perché suona Molto bene Questo invece Diciamo Minacello Classica Diciamo Misure Fusion Per cui Cassa da venti Tom da 10 12 14 14 Sì Diciamo che La batteria È eccezionale Ha un suono Meraviglioso Quella lì suona Benissimo Trovate solo quelle di fascia altissima Riescono a reggere il passo L'ho comprata Queste vent'anni che con me La comprai a Nashville Negli Stati Uniti Mamma mia che bello Negli anni 2000 Ed era Un fondo di magazzino Quindi Questa è degli anni 80 È rimasta lì E io La comprai Praticamente vent'anni dopo che È perfetta Era stata fabbricata E quindi Ha 40 e più anni Questa batteria Mamma mia È perfetta però Decisamente bene Molto bella Il ride Invece questo è un ride pesante È un K Anche se la tratta via La scritta Per l'uso È spessissimo Quello È un K Molto profondo È un 21 Per bucare un po' Il muro delle gitarre Quando si suona rock Certo O blues Super ping Anche questo è indistruttibile Ah non è finita C'è questo sonor Questo rullantino Da 10 Ah quei sonagli È un jungle Della sonor Molto divertente Per fare Un po' di sperimentazione Tipo Splash Come si chiama? K Va bene Non mi viene Quel gene Questo deve essere Un Ufip Da 12 Ok Belli vecchietti Quei piatti È un Avedis Zillian Da 14 Degli anni 60 Proprio degli anni 60 E poi l'Avedis L'ha rifatti La Zillian Bacchette Bacchettami Mixerino Per il palco Ok Ti porto un attimo Nello studio Adesso Ah non era questo quindi Ce n'è un altro? Con la band Mamma mia Questo è tutto insonorizzato quindi L'ho progettato io Perché Io faccio questo di mestiere Ah ok Ma pensa a te Sono un progettista civile Quindi abbiamo uno studio di architettura e di ingegneria E questo è abbastanza Bellissimo Per i miei 20 Infatti ne abbiamo progettati anche altri Nel nostro Nella nostra Nel nostri anni di carriera Ok Bello Molto carino Questo però Per avere la possibilità Di gestire i rientri Abbiamo Ho comprato e montato questa batteria Eccola lì Magnifica F-NOT 5 Bellissima 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 Un suono L'ho vista Sono molto molto caldo Sono praticamente Suoni di campionati di batterie acustiche Certo Diciamo che Una delle migliori lettoniche in circolazione Nel momento Si evita Il Qualsiasi tipo di rientro Qualsiasi tipo di problema di microfonazione Suoniamo in quartetto con un cantante che suona anche Dei flauto traverso Abbiamo due coriste Quindi il fatto di avere solo le voci che eventualmente rientrano Solo le voci che suonano Tutto da questo Mac E da questo XR14 C'è una scheda audio di distribuzione Delle cuffie per ogni musicista Beh devo dire che Ci permette di avere delle registrazioni ottime Ma di suonare anche come se suonassimo Già su un disco Eh certo E questa è una qualità Che ci permette di fare veramente un ottimo lavoro Ma in sala Che bello Ci permette di riascoltare le registrazioni Ci permette di riascoltare gli errori Con qualità pazzesca però devo dire Innalza un attimo la qualità Eh sì appunto Bello Molto bello Complimenti veramente Un saluto agli amici del canale Chiedevi un video un po' più lungo Abbiamo fatto una lunga chiacchierata Però insomma i setti erano tanti Quindi un abbraccio a tutti Buona musica E buona vita del canale Ciao Grazie mille Grazie mille veramente Ezio Un bel video Chiedevo video più lunghi E sono arrivati Ma a me fa veramente piacere Perché mi Cioè È molto interessante Poi qui c'era tanto da dire Perché le batterie erano tante E gli studi in realtà erano due Alla fine Quello con tutte le batterie E quello solo per le prove Per la registrazione eccetera Quindi Molto bello Perché è stato spiegato bene Tutto quanto Anche tutti i vari legni Da dove arrivavano le batterie Cioè Ha una batteria Che ha 43 anni Cioè era degli anni 80 Comunque più o meno 40 40 e più anni Quindi Ha delle batterie Molto 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 interessanti E soprattutto Alcuni pezzi Che Non si vedono Cioè ad esempio La La Sonor Che è una batteria Che io non avevo proprio Neanche mai visto Cassa 22x12 Mi sembra via detto Quindi Bello Molto 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 Interessanti Queste batterie E soprattutto Spazia Dal vintage Al Al particolare Tipo La Questlove O All'elettronica Che Raga Vabbè La FNOT 5 Il video sul canale L'ho già fatto Dico L E di altre FNOT Suona benissimo Quindi complimenti Per il video Grazie E soprattutto complimenti Per come hai gestito Come hai gestito Tutto quanto E come ti sei fatto Lo studio Poi è il tuo lavoro Quindi diciamo che È stato probabilmente Più semplice Perché sai già come funziona Però appunto Fatto Fatto veramente Molto molto bene E anche molto bello Da Da vedere Ok Vabbè Dei piatti non ho parlato Perché altrimenti Stiamo qua Un'ora e mezza Perché avrai Costantinopola Avrai Bosphorus Aveva Gli Avedis Degli anni 60 Cioè Ragazzi Vabbè Qui ci sono C'è una Come si dice C'è un patrimonio Di batterie Di piatti Eccetera Che è Immenso Però lui Si è fatto il mazzo E ha E ha comprato Tutto quanto Quindi c'è sicuramente Tanta 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 Passione In quello che In quello che fa Ma si vede Si vede assolutamente Quindi Allora Adesso andiamo Con Vito Pietanza Vai Vito Mi sa che sono Sono due video Se non sbaglio Uno di saluti E poi Andiamo all'altro Ciao Luca Ciao Vito Sono lieto Di conoscerti E di inviarti Grazie anch'io Dove ti presento Il mio Adesso Brandset Un po' Datato Ma Va bene lo stesso Tenuto abbastanza bene Ok Quindi Qui ha fatto Probabilmente ha cambiato camera Ha deciso di fare due video diversi E quindi Siamo pronti Vedo già Una Tama Rossa Tama Superstar Direi Vai Vito Ecco Luca Questo è Ciao Ti ho salutato prima Sì Ciao Il colore ha tenuto benissimo Allora è una Come ho detto Una Royal Star Con cassa da 22 Power Tom I due Tom Sono da 12 E da 13 Power Tom Vecchio stile E il rullante E da 16 Per 6,5 Il timpano Spero E il timpano Da 16 Ok Il rullante Credo sia Da 14 Royal Star E questo è Il rullante Tama E diciamo Inallegato Ok Ti direi 14 Ma suona Anzi c'è scritto lì Bene Sentiamo Va bene Questa è senza la cordiera Ecco Ok Pelli Scusa Pinslite Pelli idrauliche Mentre Sul rullante Una pelle Abbastanza Suorata Un'ambassadol Abbastanza normale Diciamo Con dei Gel Molgel Artigianali Molto artigianali Ok Ma va bene Come se Di piatti Se funziona Un Piste Ride 302 Anche questo Abbastanza Dotato Datato Ma suona Abbastanza bene Abbastanza bene E dei Piatti di Charleston Un Fip Sono da 14 E poi uno Zidian Da 14 Sempre E poi ce ne ho Un altro Ride Un altro Crash Sempre datato E un Piste 404 Che ho ripulito E lucidato Ok Poi Qualche Tempo fa Ho comprato Questo Rullante Soundwalk Tama Un'offerta Una bella Un'offerta Speciale Da Strumenti Musicali Punto Ok 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 Ecco Sì Lì ci sono Spesso le offerte Molto carino Molto carino Però Più che altro C'è quella cosa Del vintage Posso anche Far accennare Qualche Qualche suono Proviamo Ok Ho chiuso molto Il timpano E La cassa Cassa cadena Bella Insomma Con un pedale Bella e sabbiata DV5000 Acquistato Un paio D'anni fa Usato Ok Si vede Che è abbastanza usato Adesso Sì Ecco Quindi Stavo pensando Infatti Qualche tempo Fatti Ho chiesto Anche se Cosa ne pensavi Di alcuni Marchi di pedali E mi hai dato Un buon consiglio Però Non ho ancora Acquistato Ok Vabbè Poi Ho questa Lessis Elettronica Che ho comprato Circo Un annetto fa Sempre da Strumenti Musicali Ok La uso Come studio E magari Quando Proviamo Con la band Probabilmente Sempre per Soft Si può Dove si può Sempre per la questione Di non distruggare Di entri Eccetera Esatto Ok Quindi batteria Economica Ma alla fine Funziona bene Abbiamo acquistato In comune Queste sono Delle casse Sempre In comune Con la band Ecco Quindi tutto qui Aspetto Una tua Valutazione Un tuo riscontro Eccola qua È arrivata È arrivata Ringrazio tanto Ciao Mi ha fatto piacere Ho fatto molto piacere Anche a me Grazie mille Vito Allora Mi piace Questa cosa Che è Delle batterie Diciamo Più vecchiotte Questa comunque È una batteria Delle 86 85 86 Che Ha quasi 40 anni Però Molto Molto carina Cioè Nel senso È rimasta Molto Mi sembra Si sia Si comporti Ancora Molto bene Nel senso Che Come finitura Tiene Direi Come suono Sì Secondo me È un attimino Da accordare Più che altro Ti consiglio Vito Di dargli Un po' Più di Curva Nel senso Al suono Nel senso Parti Dal tom 1 Che Volendolo Puoi lasciare così Il tom 2 Tiralo Un po' Più giù In modo tale Da Poi 12 E 13 Non è così Semplice Non sono così Semplice Da accordare Sono più semplici 10 12 Però 12 E 13 Dagli un po' Meno Come accorzatura In modo tale Magari da fare Tin Ton Tin Ton Ton Il timpano Lascialo bello basso Mi raccomando E Soprattutto Stai attento A Secondo me Non Tira Non Riempirlo Troppo Di roba Perché Altrimenti Poi Rischi Che Lì C'era Un po' Quel suono Di E Finisce Lì Se Ti Capita Di Usarla Live Quel suono Lì Non Riesce A farlo Sentire Quindi Lascialo Un po' Dagli Un po' Più Di Aria Lascialo Slabrare Un pochino Di Più E Vedrai Che Appunto Cercando L'intonazione Da Più Alto A Più Basso Vedrai Che Riuscire Trovare Un buon Suono Anche Di Quella Batteria E Soprattutto Un suono Potente Poi Ha Dei Ton Power Quindi Molto Più Alti Molto Più Profondi Quindi Sono I Ton Power Sono Sempre Molto Molto Potenti Quindi Con Questo Ragazzi Grazie Mille Io Chiudo Qua Il Video E Voglio Ringraziare Come al Solito Lo Faccio Sempre Quindi Voglio Ringraziare Ezio Pelix Voglio Ringraziare Simone Pezzi E Vito Pietanza Per Avermi Mandato Questi Video Grazie Mille Ottimi Video Ottime Batterie E Studi Molto Interessanti Io Come sempre Vi ricordo Che se Volete Mandare I Voi Volete Mandarmi I Vostri Video Vi lascio Qui sotto In Descrizione Il Link Dove Potete Caricarli Basta Fare Il Video Andare Qui sotto In Descrizione Cliccare Sul Link Vi Si Aprirà Una Pagina In Cui C'è Scritto Mettete Qui Il Video Voi Cliccate Caricate Il Video Direttamente Al Cellulare Da Computer Dove Volete E Mi Arriva Direttamente Quindi Poi Me lo Troverò Nel Database Di Tutti I Vostri Video E Pian Pianino Come vi Dico Sempre Farò Uscire Tutti Quanti Mi Raccomando Vi Prego Di Qualità Abbastanza Buona Non Fatemi Un Troppo Pixelosi Perché Altrimenti Non riesco A Non Posso Farli Vedere Perché Non Si Vede Poi Troppo Bene E Con Questo Basta Ragazzi Se Vi Va E Non Siete Ancora Iscritti Iscrivetevi Al Canale Iscrivetevi Al Canale Andate Sul Mio Sito Gastro Drums Dove Trovate Tutti I Corsi Come Detto Prima Cliccate La Campanellina Cliccate Di Qua Commentate E Noi Ci Vediamo Al Prossimo Video Ciao